Finito il campionato dovrebbe iniziare a fare capolino l'estate, invece clima autunnale, almeno dalle mie parti, e autunnale, invernale o comunque da climi freddi è il piatto che viene utilizzato come figura retorica per parlare dell'ipotesi che sta prendendo sempre più corpo per il futuro prossimo allenatore della Sampdoria. Minestra riscaldata, evidentemente parliamo di Marco Giampaolo, la figura retorica della minestra riscaldata si usa spesso in questi casi con evidente tono negativo, dispregiativo, non deve essere una cosa bella, anche se la minestra riscaldata come piatto è codificato dalla cucina italiana, credo la possiamo identificare con la ribollita, che è un piatto tipico della tradizione toscana. Dalla Toscana, dall'Empoli, arrivava Marco Giampaolo per iniziare la sua epoca di tre stagioni alla guida della Sampdoria. Peraltro, minestra riscaldata l'ha utilizzata anche Ferrero a suo tempo come figura retorica per dire di non gradire i ritorni, in quel caso si riferiva a un possibile ritorno di Eder alla Sampdoria, che effettivamente poi non si sarebbe verificato, però dalle voci che sentiamo attorno alla Samp, alla società e al futuro per quanto riguarda la guida tecnica, sembra un'ipotesi concreta. E quindi siamo tutti quanti a chiederci che cosa ne pensiamo, se ci piacerebbe o non ci piacerebbe, anche perché i tre anni di Giampaolo hanno in modo abbastanza, secondo me, inspiegabile, spaccato in due l'opinione della tifoseria in merito a quell'esperienza, perché ci sono tanti che lo ricordano molto positivamente. Io sono tra questi, io sono, ero e rimarrò, indipendentemente da come andranno le cose, estimatore di Marco Giampaolo. Tanti invece lo detestano, perché non è mai scoccata la scintilla per quanto riguarda questi detrattori. E' legittimo, e per carità, con il modo di pensare e esprimere calcio da parte di Marco Giampaolo. Dicevamo, in quell'occasione arrivava da Lepo, allora intanto io mi schiero subito su un eventuale ritorno, non mi fa impazzire l'idea. E ho appena detto che sono un grande estimatore di Marco Giampaolo, nonostante le sue ultime esperienze brutte al Torino e al Milan. Secondo me, però, non è una scelta buona, non sarebbe una scelta che mi augurerei, né per la Sampdoria, né per Marco Giampaolo. Un'altra voce che invece, secondo me, calzerebbe meglio per lui e per la squadra dove andrebbe, è il Sassuolo. Si riproporrebbe, se lui andasse ad allenare i neroverdi, più o meno una dinamica simile a quella di quando lui arrivò all'Empoli a continuare il lavoro di Maurizio Sarri. In questo caso, arriverebbe a sostituire Roberto De Zerbi, che va allo Shakhtar, e appunto a inserirsi, a mettersi in un tessuto di una squadra che già esprime un certo tipo di calcio che è coerente con quello di Giampaolo. E quindi continuare questo tipo di lavoro, anche se ci sono differenze tra lui e De Zerbi, però sarebbe interessante e accattivante anche da vedere da esterni. Quindi, secondo me, alla Sandoari in questo momento serve un altro tipo di figura. Chiaramente, e questa è una premessa che va fatta sempre quando si parla di allenatori, di guida tecnica, non ci possiamo esprimere se prima non sappiamo che materiale umano, per dirla in modo un po' brutto, insomma un po' materialistico appunto, avrà a disposizione. Ma, da quello che sentiamo, sarà, ho già sentito un paio di volte utilizzare questa espressione, lacrime e sangue, riferita al mercato della Sampdoria, che se siamo abituati, sappiamo che ogni estate, prima di comprare qualcosa, per galleggiare, per sopravvivere bisogna vendere qualcosa, quest'estate la situazione sarà, da quello che percepisco, peggiore degli anni scorsi, perché c'è più necessità di vendere, si parla di un incasso da trovare in qualche modo che si aggira attorno ai 50 milioni e è difficile individuare rispetto agli anni scorsi giocatori valorizzati in tal modo da poter realizzare questo tipo di incasso. I nomi li abbiamo fatti anche nei giorni scorsi, sicuramente Emile Audero, sicuramente Damsgaard a questo punto, anche se un po' calato nel finale di stagione, probabilmente Collei, che invece ha finito in clamoroso crescendo ed è un classe 92 e credo che questa, purtroppo, perché noi continuiamo comunque un pochino ad affezionarci ai giocatori e come fai a non affezionarti anche dopo le immagini dell'ultimo abbraccio del centrale Gambiano con Mr Ranieri, quindi anche questa probabilmente sarà l'estate buona per salutare il buon Omar e ricavarne qualcosa di utile e quindi fare una rosa competitiva adesso mi riesce addirittura difficile iniziare a fare dei possibili ragionamenti su quali giocatori potrebbe avere a disposizione Giampaolo, quali dell'attuale rosa sarebbero funzionari al suo gioco, quali no. Sappiamo dalle ultime notizie che sentiamo che Keita sta salutando, non verrà riscattato molto probabilmente, rimarrà Gabbiadini che ha già lavorato con il mister abruzzese, c'è Fabio Quagliarella con cui c'è abbastanza una luna di miele con Giampaolo, c'è Tonelli che ha già lavorato con lui ed è uno figlio della tradizione sarriana, quindi ci potrebbe stare, ma insomma sono tutti discorsi molto campati in aria, quindi io vi chiedo cosa ne pensate, io vi ripeto che secondo me ci servirà altro profilo, a meno che non venga messo a disposizione e non venga accontentato Giampaolo nelle sue richieste, ma evidentemente se le parti si stanno parlando di questo anche staranno discutendo, chiudo prima di chiedervi quello che ne pensate voi, quindi sapere la vostra, ricordandovi sempre che possiamo discutere ma possiamo comunque restare nella civiltà, perché noto che il tema Giampaolo sì, Giampaolo no, negli anni scorsi ha molto diviso e a volte anche troppo, ecco questo è, ci tengo invece a sottolineare una cosa, solitamente uno degli elementi portati a critica di Marco Giampaolo è il fatto che lui abbia fatto poco con il materiale che ha avuto a disposizione giudicandolo ex post, cioè vedendo ora che cosa stanno facendo i vari Bruno Fernandesi, i vari Luis Muriel, i vari Torreira, eccetera eccetera, Pratt, Schick, che è una critica secondo me che non sta in piedi o che almeno io non condivido perché è sbagliato pensare che Giampaolo avesse a disposizione il Bruno Fernandes di adesso, il Luis Muriel di adesso, eccetera eccetera, sono giocatori come tutti i giocatori che fanno un percorso, io la vedo più nel senso opposto, cioè che sono arrivati a diventare quello che sono adesso, anche grazie alla crescita, perché più che altro pensiamo a come erano percepiti questi giocatori quando sono arrivati, Bruno Fernandes era quasi uno scarto dell'Udinese o comunque non era un giocatore così brillante che andava contestualizzato e forse Giampaolo non l'ha neanche fatto rendere al meglio, ma comunque era più lui il titolare di Ricky Alvarez che che ne dica la leggenda, Luis Muriel stesso se ve lo ricordate negli anni prima comunque era un esempio di discontinuità clamorosa e Giampaolo ha avuto il merito di inquadrarlo un po' di più e poi Muriel è esploso ulteriormente andando poi in giro, ma soprattutto all'Atalanta perché anche a Firenze ha fatto cose buone ma non buonissime, al Siviglia non l'ho seguito tanto ma non mi sembra che abbia spaccato tutto, quindi questa è una cosa che ci tenevo a sottolineare. Quindi Giampaolo sì, Giampaolo no, detto tutto questo io sono più per il no, preferisco più un emergente un po' più tendente alla concretezza, vediamo, dipende sempre da che cosa gli mettono a disposizione. Voi che ne pensate?